Ho perso tutte le navi. Ho perso tutte le navi. Il 26 dicembre io arrivo il 21, quindi molto prima che possano scappare. Anche qui 14 reggimenti francesi. Dovrei rincorrere però. E qui c'è un grosso esercito. Armata di lingua d'oca. Ah, questi sono i mercenari. 31. Sì, dove saltano fuori. Ad Armagnac ottengo una vittoria. Ma senza riuscire a distruggere il nemico. Nel frattempo i ranghi si stanno pericolosamente assottigliando. Ok. 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 ottengo una vittoria di misura ho distrutto parecchie unità però la ciccia mi sfugge devo far riposare l'esausta guardia pretoriana i mercenari sono solo una cannula neanche 15.000 uomini qui hanno messo insieme un grosso esercito devo ricostruire almeno parte dei trasporti persi diamo lavoro ai cantieri non so se ci mettono un sacco di tempo non so se ne f CHI che è successo qui nel barbon? una legione persa era quella messa meglio che avevo sicuramente mi hanno intercettato comincio a valutare l'ipotesi della pace visto che qualcuno ha preso la Lorena sembra un po' vogliano trattare nel frattempo fuori sta biguiando oggi è il primo maggio del 2016 così per la cronaca qui nelle americhe c'è una grossa rivolta in corso molto grossi addirittura i nazionalisti cric quindi probabilmente perderò tutte queste province cric mi resta che attendere e rafforzarmi un po un po eccoli Tolosa questi arrivano 16 marzo 19 marzo di questi arrivano prima devo fermarli qui ahhh 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 questa è la quarta Flavia questi mercenari si può sapere dove sono mi serve per impiegarli tutta la truppa che fine ha fatto? sono quattro gatti adesso questo è ciò che resta della prima italica sono spattiti non li vedo eserciti armata di lingua d'oca io non li vedo primo esercito è questi qui guardo la mona ecco lì finalmente hanno deciso l'attacco l'attacco verrà anerbona l'attacco 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 è parola l'attacco l'attacco è l'attacco è è un reggimento d'artiglieria, il resto serve tutto e non è sufficiente purtroppo devo abbandonare l'assedio del rossi vivo stanno arrivando dei rinforzi ma non credo che saranno sufficienti è morto di tre papure anche un consigliere nonostante lo svantaggio nooo sconfitta verso 46-47 mila uomini e loro neanche poco più di 15 mila ma com'è possibile tutti a Milano a questo punto credo che sia costretto a chiedere la pace che non mi viene concessa forza militare dell'esercito francese di guerra sia dunque con il esausto accanimento non mi viene concessa 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 Grazie a tutti 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 Vediamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti